Ciao a tutti, sono a Ginevra per la settimana della cucina italiana nel mondo. Siamo ad una serata organizzata dalla SIAG, un'associazione che riunisce tutte le associazioni di emigrati italiani qui nel cantone di Ginevra. Siamo nelle cucine adesso, nelle cucine che stanno preparando la cena appunto italiana. Sentiamo un po' cosa dicono i nostri amici e i nostri cuochi. Vieni, vieni, vediamo un po'. Possiamo fare due domandine veloci in diretta. Come va la serata? Stasera la serata si è conclusa bene per questo bel evento. Abbiamo preparato noi mare e monti in un abbinamento perché siamo accostati qua al nostro lago. Noi veniamo dalla Sicilia, dalla nostra terra, dal nostro territorio. Quindi voi venite dalla Sicilia, direttamente dalla Sicilia. Dalla Entroterra, Sicilia Entroterra. Per questa serata a Ginevra. A Ginevra. Quanti siete dalla Sicilia? Noi siamo qui stasera un 15, un 15, 20, 25. All'incirca siamo lì. Bene, bene. Vi posso dare una mano? Porto anche io qualche piatto in tavola. Ma sicuramente. Vi porto qualche piatto. Questo è pronto. Bene Simone. Siamo avessi. Uno, prendo un altro. Non fa qualcosa, non fa qualcosa. Ma manca una spiritata. Manca. Questo è pronto? Manca. Quindi una cena siciliana oggi a Ginevra, per festeggiare la cucina italiana nel mondo. Mediterranea. 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 Dalla Sicilia, un buon culore. Grazie. 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 Grazie.